Dentro l'edificio nel quartiere Capo, ormai in stato di abbandono, sono stati trovati 103 vasi di plastica di colore nero, pieni di terriccio appena annaffiati e curati con diverse piante di cannabis dal fusto alto un metro e mezzo. I locali dell'ex convento di Sant'Agata alla Gulla, un tempo luogo di preghiera, erano diventati una vera e propria serra per coltivare droga. All'interno era stato montato un impianto di areazione curato nei minimi particolari per far crescere le piante grazie all'utilizzo di grossi tubi in alluminio collegati ad estrattori. L'illuminazione veniva assicurata con un allaccio abusivo alla rete dell'Enel, che faceva funzionare ben 32 alimentatori e altrettante lampade alogene. I militari hanno trovato un misuratore di umidità collegato all'impianto di irrigazione. In un'altra stanza c'era un altro impianto con altri 19 vasi di plastica vuoti e 194 vasi di colore nero, dove le piante erano state da poco tagliate e messe per terra ad essiccare. Dopo la scoperta le indagini comunque vanno avanti per accertare chi si occupasse della coltivazione e chi avesse la disponibilità dell'immobile.